I riti e i festeggiamenti del Santo di Mira, in diretta su Telenorba, ITG Norba 24. Domenica 7 maggio alle 18.30, la Santa Messa su Telenorba. E alle 20.30, il Corteo Storico di San Nicola, su Telenorba, ITG Norba 24. Lunedì 8 maggio, su Telenorba alle 5, la Santa Messa. Martedì 9 maggio alle 18.30, su Telenorba, la solenne celebrazione e il prelievo della Sacra Manna. I riti e i festeggiamenti di San Nicola, in diretta su Telenorba, ITG Norba 24.